ritorno in via dante angolo via giusti a taranto lo avevo detto un mese fa circa vedete che questa strada il manto stradale sta letteralmente sprofondando sta collassando e così purtroppo è accaduto la strada il manto stradale è letteralmente sprofondato precipitato una morte annunciata ma guardate uno stralcio di quel servizio quanto appunto ebbi a dire circa un mese fa guardate qui uno sprofondamento una conca lo vedete una conca proprio vedete il mio piede proprio vi disegna come la strada scende e sale una conca bella e buona quindi a lungo andare vedrete che arriveremo ad avere una voragine non sono certo un indovino né sono cassandra profetessa di sventure ma è stata la logica come dire a farmi prevedere quello che sarebbe accaduto quello che inevitabilmente inesorabilmente logicamente si sarebbe verificato e si è appunto verificato questo cosa ci fa capire ci fa capire uno che l'amministrazione melucci se ne frega assolutamente delle segnalazioni perché io avevo segnalato più volte il caso è l'amministrazione se ne infischiata quindi l'amministrazione melucci si se ne infischia della sicurezza delle nostre strade e quindi della sicurezza dei cittadini perché immaginate cosa può accadere se un bus una macchina una moto un cittadino si trova a passare e sprofonda ora la solita logica si transenna l'area rimane così sprofondata per per mesi nei secoli dei secoli abbiamo visto altre situazioni esperienze analoghe per esempio in via general messina come dire sprofonda collassa il manto stradale transenna intorno e chi si è visto si è visto questo è il modus operandi dell'amministrazione melucci siamo passati da come assessore lavori pubblici da mattia da mattia giorno a mimmo ciracci nulla è cambiato inefficienza amministrativa c'era e inefficienza amministrativa c'è e ripeto la solita espressione melucci dice che sta seminando la rinascita io dico che sta seminando buche e sprofondamenti